Ciao a tutti, oggi vi parlo del nuovissimo Nokia 3310. Ovviamente sto scherzando, questo è un video un po' particolare della rubrica cazzeggio digitale. Questo mese di agosto è stato per me un mese veramente terribile perché mi hanno lasciato tantissimi componenti elettronici. Questa bellissima scheda video Radeon, dopo anni di utilizzo mi ha lasciato. Però come dire, era una cosa che mi aspettavo perché comunque era una scheda già che aveva qualche anno. Quello che invece mi ha dato un po' più fastidio è stato appunto il telefono principale che era appunto questo Sony Z3 Compact che appunto neanche un anno di vita ho dovuto già portarlo in assistenza due volte. e nonostante tutto secondo me è un telefono che è fatto bene nel senso che comunque è un telefono piccolo, il display è robusto, è potente, è stato aggiornato da poco ad Android 8.0 però appunto nel mio caso è andata così, questo bellissimo Nokia 32310 ancora funziona, questo telefono neanche un anno e appunto ho dovuto portarlo due volte in assistenza, la prima volta per un bug veramente da ricovero, nel senso che succedeva solo per le telefonate appunto GSM, non per i messaggi inviati tramite Facebook o WhatsApp, succedeva che io sentivo bene l'altro interlocutore però l'altro invece mi sentiva sempre con un eco, quindi lui sentiva la mia voce in più la sua ripetuta dopo qualche secondo. Ho provato a fare vari reset però niente da fare, era una cosa hardware e questa cosa qui diciamo mi è successo appena comprato e niente me l'hanno sostituito, adesso dopo un anno di tempo altro bug ha smesso di funzionare il Wi-Fi, funziona il 4G ma col Wi-Fi ha smesso di funzionare, anche qua ho provato a resettare, niente, e per fortuna è successo prima entro i due anni e quindi l'ho riportato indietro, adesso mi hanno detto che dopo un mese me lo restituiranno o me lo sostituiranno, vediamo. Che dire, cose abbastanza strane perché appunto normalmente quando compro un oggetto tecnologico dopo è scontato che mi funzioni almeno 5 anni, però purtroppo ultimamente sto vedendo che le cose che acquisto dopo diverse ricerche eccetera comunque sono oggetti tecnologici che non ce la fanno, che per qualche ragione, per una ragione o per un'altra appunto tendono a rompersi. Fortunatamente molto spesso mi accade nel periodo di garanzia, però appunto alcune rotture che succedono dopo il periodo di garanzia in molti casi non vale la pena neanche sostituirli, visto appunto i costi di partenza e l'avanzamento tecnologico. Su questo punto è curioso perché mi è successo anche con altre apparecchiature elettroniche non, spesso sono dei piccoli componenti che si rompono, però questa cosa fa sì che tutto l'apparato poi venga sostituito per varie ragioni, quindi è come comprarsi nuovamente un oggetto solo per una piccola rottura. E questa cosa diciamo dal punto di vista ambientale non è il massimo, quindi è normale poi vedere questi accatastamenti di telefoni incredibili, perché purtroppo in alcuni casi o non è conveniente ripararlo oppure non è possibile ripararlo. Che dire, se questa cosa succede in un arco temporale adeguato, ok, è comprensibile, però che succeda veramente entro l'anno per me è troppo. Cioè a questo punto mi affitto uno smartphone invece di acquistarlo se il periodo di vita, se il periodo di aspettativa di vita è così corto. E che dire, non mi è solo successo sulla tecnologia, nel senso mi è successo anche su cose meno sperimentali, tipo questo paio di occhiali che ha queste molle. Mi è successo che anche qui dopo un anno l'astina penzolava. E anche qua fortunatamente, grazie alla garanzia, sono riuscito a farmelo cambiare. Però io che porto occhiali da una vita, sono abituato anche qui a avere degli occhiali che mi durano almeno cinque anni. E anche qua entro l'anno mi si è rotta l'astina. Cioè è rotta, nel senso ballava, però non era più utilizzabile. E appunto mi hanno accusato che toglievo gli occhiali con una sola mano. In realtà non era vero, però di fatto non mi pare un utilizzo improprio di un paio di occhiali. Non gioco a pallavolo, non gioco a pallacanestro. E per un normale utilizzo, anche qui, che la molla degli occhiali va a rompersi dopo un anno, mi sembra abbastanza strano. Soprattutto perché io ho ancora gli occhiali precedenti funzionanti che ho deciso di cambiarli solo perché era andata via la verniciatura, non perché fossero rotti. Quindi sono cose che mi danno un po' fastidio. A maggior ragione che si tratta comunque di un paio di occhiali di marca. Quindi veramente cose incomprensibili. E che dire, posso capire questo comportamento nella tecnologia dove appunto c'è sempre l'aria in corsa, il telefono più veloce, più leggero, più potente, eccetera, eccetera. Però appunto specialmente nel mondo Android c'è un conflitto di interessi enorme che è appunto uno, è quello di Google che vorrebbe avere, come dire, una massa omogenea di utenti, sempre tutti con la stessa versione di Android. Tra l'altro io su quel telefono ho sempre ricevuto gli aggiornamenti ed era arrivato fino a Android Oreo ed era partito dal 5, mi pare. E comunque il settore di Android è sempre frammentato perché giustamente Google mira ad avere tutti i telefoni aggiornati, allineati, però l'interesse dei produttori hardware è quello sempre di fare telefoni nuovi e spingere a comprare dei telefoni nuovi e non aggiornare il software di quelli vecchi. Quindi questa problematica sicuramente c'è, però mi pare che ultimamente almeno i telefoni che ho provato io comunque tendevano a essere abbastanza aggiornati. E che dire, su questo discorso veramente si potrebbe parlare tantissimo, c'è chi è che ha una visione più complottista sull'obbiettivo delle scienze programmate, eccetera. Io personalmente noto che, almeno ditemi anche voi cosa ne pensate, però noto che ultimamente la durabilità della tecnologia è molto bassa, nel senso che le apparecchiature tecnologiche tendono a rompersi più spesso. Tuttavia, se devo appunto trarre una conclusione, io ho trovato tre consigli che mi sono stati utili per, non dico risolvere, ma mitigare questo tipo di problematica. E appunto, il primo sarà il più banale di tutti, ma se potete appunto testare un oggetto tecnologico, normalmente gli oggetti tecnologici che scaldano sono quelli che si rompono prima, proprio perché appunto i contatti, le saldature, eccetera, eccetera, sono molto sensibili. Quindi, qualsiasi oggetto tecnologico che scaldi e che non sia un phon per i capelli, non acquistate rose scalda. Secondo punto, che dire, vabbè, ovviamente su YouTube c'è tantissimo materiale in italiano, in inglese, guardatevi le recensioni di persone affidabili che appunto testano i prodotti tecnologici, quello appunto mi è stato molto utile. E per finire, questa cosa non vale solo per i prodotti tecnologici, vale un po' per tutto, mai comprare le prime versioni di un prodotto tecnologico. Quando esce il nuovo rivoluzionario X, qualsiasi cosa, non compratelo perché quasi sempre poi vengono fuori dei bug durante l'utilizzo. Se invece comprate, non so, la versione successiva dell'anno dopo del lancio che magari hanno fatto la versione hardware punto uno migliorata, è probabile che in quella versione lì magari non ci sono delle novità strepitose per il marketing, però probabilmente sono andati a aggiustare, a rifinire delle cose che poi si scoprono carenti nel tempo. Questi sono i consigli che mi sento di darvi sugli acquisti di tecnologia in on. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!